Sono andato in studio con i tre vincitori del contest della Rivals Production Suite e oggi vi farò vedere come è stata l'esperienza della session e vi farò sentire i beat che abbiamo fatto. Prima di cominciare, sul nostro sito ipenvolt.com abbiamo lanciato una campagna di sconti estivi. Troverete tutti i kit in sconto fino al 40%, ma gli sconti dureranno soltanto una settimana. Quindi se stavi pensando di prendere qualche kit, è il momento giusto per farlo. Detto questo, andiamo a vedere come è stata la session. Un portal che lo faccia casare. Io la ne metterei tipo 2, voglio dire che cazzo. Ma... Tagliato? Tipo... No, no, ci sta tipo anche... Vai, 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 tipo vai. Vieni. Sì, ok. Capite? Qua volevo fare qualcosa, veniva più... Poi invece di basso basso... Qua cosa vedi basso basso... Scusate, venite voi se c'è qualcos'altro a fare, se ci vedete qualcosa qui nella meno. Esatto, qua c'è qualcosa che lo fa droppare. Statter che è tattà, tattà. Lo sento io fare una robina tipo... E non va finito. E poi la fai scendere. Anche se non in scala ce ne sbattiamo il cazzo, basta che sono bene. Fa una paccata così. È il problema solo di questo... di questo modo. E qua era? Qua è solo... di là. Qua c'è il rim... Si, i yeti in terzine. Si, su metto gli... In quale degli yeti belli bouncy. Ma in terzine dici che riusciamo? Ma scopo a questo punto... Qualcosa del genere. Intanto, quali erano gli? Questi volevate? Sì, ci sta. Provalo, provalo. Tusk, a me ci potrebbe stare. Però metti contro questi. Loft. Intanto le faccio i due step. Belli... Il rollo iniziale era qui, quello che avevamo fatto all'inizio. Chi era? Era in terzine? Era in terzine? No, era in... Forse... Quattro. Esatto. Era così? Si. Ecco, così, sei bravo. Esatto. Ballo. Anche di pitch? Discesa di pitch? Discesa di pitch? No. 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 Ah, ma devi... Ah, ecco. Puoi farei il trick? Quello del taglio, perché così non è troppo lungo. Gli aietti tagliati di prima. Vuoi? Perché no? Perché no? Non posso dire che... Manni! T新 moto! Gustavo potrò! Eh 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 eh. Ma si no! Ma cosa che c'è? The ristrenables! Ma a pens gerne non! Ma cosa a pensare! A pensare! Ma pensare, la cosa che fatta con forgotten! Ma eg p MIne doti? Grazie a tutti. 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 Vai sul sample dei kick. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Fa muovere. Esatto. Grazie a tutti. 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 a tutti.